Oggi, martedì 21 aprile, Iari Carrisi, figlio di Albano e Romina, compie gli anni. Il secondo genito della coppia, nato dopo Elenia, spegne oggi 47 candeline. E non potevano di certo mancare gli auguri social di Mamma Power. Romina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un mini-album di fotografie che raccontano i primi giorni di vita di Iari. La dedica di Romina. Romina Power pesca dall'album dei ricordi vecchie fotografie che ritraggono Iari neonato tra le sue braccia. Buon compleanno Iari, scrive la cantante nella didascalia che accompagna la gallery fotografica. La prima è una foto che ritrae la Power con Iari, ma a seguire ci sono scatti tenarissimi di Elenia, ancora bambina, che stesa accanto al fratellino lo contempla con dolcezza. Iari Carrisi, 47 anni. Compleanno in piena pandemia anche per Iari Carrisi, come molti VIP. Il secondo figlio di Albano e Romina ha seguito le orme dei suoi genitori. Molto giovane si è appassionato cominciando a studiare la chitarra ed oggi è un musicista, autore tra l'altro di colunne e sonore. Il giovane Carrisi è passato agli onori della cronaca rosa per la sua storia con Naika Rivelli, la figlia di Ornella Muti. La loro storia è nata durante la registrazione di Pechino Express nel 2015, ed è stata da sempre sotto i riflettori del gossip, fino a che non si è conclusa poco tempo dopo. La loro storia è passato agli onori della cronaca rosa per la sua storia. La loro storia è passato agli onori della cronaca rosa per la sua storia.